Conoscere la trigenerazione permette di cogliere nelle grandi opportunità, in ambito soprattutto industriale. Un congeneratore è un apparecchio che permette attraverso un motore di produrre contemporaneamente sia energia elettrica e sia calore. La trigenerazione è un particolare sistema di congenerazione nel quale in aggiunta si produce anche energia frigorifera, quindi sostanzialmente fa freddo, caldo e corrente elettrica. Il vantaggio della cogenerazione e della trigenerazione è tale non sprecare il caldo e il freddo che si ottiene producendo elettricità col motore a combustione interna. Per capirci come un motore di un'automobile, però chiaramente per apparecchi grandi e dell'ordine di grandezza di un motore di un autobus, questo evitare lo spreco porta a maggiore efficienza e quindi a un vantaggio economico. Vediamo nel dettaglio. La produzione combinata termica ed elettrica può incrementare l'efficienza di utilizzo del combustibile fino all'80%. A ciò corrispondono minor costi nell'approvvigionamento del combustibile e minori emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore. Il Parlamento europeo individua nella cogenerazione e nella trigenerazione una delle soluzioni tecniche più efficaci per soddisfare i raggiuntamenti degli obiettivi del protocollo di Kyoto. L'efficienza del ciclo COOP, Coefficient of Performance, è tra i 0,7 e 1,3. Ad esempio, per un consueto impianto di trigenerazione, l'emissione di anidride carbonica per kWh prodotto è di circa 250 grammi, quindi pochissimo, per cui è possibile individuare tale tecnologia come impianto a basso impatto ambientale. La trigenerazione consente di utilizzare l'energia termica di scarto, che nei normali processi di cogenerazione viene dissipata, per produrre anche energia frigorifera, ovvero acqua rifrigerata per il condizionamento o per i processi industriali, fino alla temperatura di meno 60 gradi. Ad esempio, nella forma di acqua glicolata o di ammoniaca liquida. La trasformazione dell'energia termica in energia frigorifera è resa possibile attraverso un sistema simile a quello del solar cooling, ovvero un sistema ad assorbimento, quindi con un minimo utilizzo di energia elettrica, grazie appunto all'impiego di un assorbitore, di cui parleremo magari più approfonditamente nel video del solar cooling. Questo processo si basa sull'evaporazione a bassa temperatura e pressione di un fluido refrigerato, che assorbe calore dall'acqua da refrigerare e il valvore prodotto viene asportato facendolo assorbire da una soluzione, dalla quale lo si separa nuovamente per riscaldamento. I sistemi di trigenerazione possono essere progettati per funzionare con qualsiasi fonte primaria di calore, ad esempio idrogeno, gasolio, gas metano, quello più utilizzato è il gas metano, e ad oggi risultano economicamente convenienti per poter essere adottati in maniera diffusa. Concludendo, i principali vantaggi della trigenerazione sono la maggiore energia elettrica disponibile, la possibilità di utilizzo del freddo e del caldo nella climatizzazione o nel processo produttivo aziendale. Infine, da non sottovalutare, c'è la defiscalizzazione del combustibile. Viene applicata l'accisa ridotta alla totalità del combustibile utilizzato per alimentare questo gruppo. I costi di un impianto di trigenerazione sono compresi tra i 2.000 e i 3.000 euro per kilowatt installato e grazie alla defiscalizzazione del metano i tempi di ritorno dell'investimento risultano compresi tra i 3 e i 5 anni. Finora abbiamo parlato dei benefici e anche dei costi, però ci si potrebbe chiedere perché non siano così diffusi questi impianti. La criticità sta nel fatto che la trigenerazione produce contemporaneamente acqua fredda, acqua calda ed elettricità, cioè per la climatizzazione o serve il freddo o serve il caldo. Per questa ragione consiglio di ipotizzarli soprattutto per gli impianti industriali dove per il processo produttivo, oltre alla corrente elettrica, serve una fonte calda e contemporaneamente serve una fonte fredda. Un esempio classico di applicazione di un impianto di trigenerazione è l'industria dei biscotti, dove oltre a cuocere biscotto, sostanzialmente, occorre anche raffreddarlo, per cui la trigenerazione è perfetta allo scopo. Se puoi interessare alcuni dei tecnici che collaborano con la 2C, nel corso degli anni si sono specializzati sia nella cogenerazione e sia nella trigenerazione e sono a disposizione sia per analisi fattibilità e sia per progetti. Arrivederci. Ti è piaciuto questo video? Allora se non vuoi perdere i prossimi, cerca su YouTube A2C Salerno e clicca su iscriviti. Alla prossima!